Salve e buongiorno. Oggi andiamo ad aprire 4 nuovi pacchetti arrivati gratuitamente tramite il programma Amazon Vine. Ricordo che in descrizione troverete il link a tutti i prodotti che vedremo in questo video. Clicchiamo da parte, prendiamo il primo pacchetto, iniziamo da questo qua piccolo. Ecco il primo pacchettino. Abbiamo una sigaretta elettronica. Andiamo ad aprire. Si presenta in questo modo. Passiamo ad un altro prodotto. Abbiamo questo pacchettino. E dentro troviamo ben due prodotti. Il primo, una webcam USB. Semplice. E come secondo prodotto abbiamo un epilatore a luce pulsata. Proviamo gli occhiali, una lametta, l'alimentatore e l'epilatore. Ok, deve rimanere alimentato per funzionare. Ecco qui, il manuale. 990.000 impulsi. Prendiamo l'altro pacchettino. Abbiamo una piccola ring light. anche con il telecomando bluetooth alimentata via USB. Apriamo l'ultimo pacchettino di oggi che è questo. Di solito in questi pacchettini, bustine, arriva l'abbigliamento. Qui invece troviamo delle scarpe antinfortunistiche. non ci serve. e queste sono le scarpe antinfortunistiche. E queste sono le scarpe. e questo per oggi si conclude l'unboxing. E con questo si conclude per oggi l'unboxing. Ricordo che tutti questi prodotti sono stati ricevuti gratuitamente tramite il programma Amazon Vine. e in descrizione troverete i link a tutti i prodotti che abbiamo visto in questo unboxing. Quindi non mi resta che augurarvi buona serata e alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.